Partiamo, partiamo ragazzi, questa volta vi faccio un regalo ragazzi. Stavo leggendo la prima di Libero e c'è questa parola chiave qua. Economia di guerra, che adesso vedremo. Siccome io ho vissuto in razionamenti, nel senso che in comunismo, tu non potevi comprare quello che volevi. C'era una razione, tu venivi con la tua tesserina e non potevi comprare più di tanto. Ecco, infatti qua dice, in Italia, primi cartelli nei suoi mercati, imposti limiti all'acquisto di olio, farina e zucchero. Allora, c'è questo documento che io vi dico, cioè se io potessi dire per esempio la cosa più importante da leggere o da vedere, c'è anche un documentario fatto da questo rapporto qua, che andremo a leggere un attimo al volo adesso insieme. E la cosa più importante è che voi leggete questo documento qua, che praticamente spiega perché abbiamo tutti i problemi che abbiamo. A parte che insomma è un problema dell'uomo, perché tutto questo non esisterebbe, queste poche persone, questi pochi lupi che hanno da sempre controllato l'umanità, non esisterebbero se non fosse la natura dell'uomo che preferisce sempre, insomma, scegliere l'opzione più facile per vivere, no? E poi si ritrova ad essere schiavo. Però comunque sia, vediamo in dettaglio in cosa consiste questo famigerato rapporto segreto da Iron Maiden, Iron Mountain. Quindi parte così questo, e poi vi do anche, vediamo se, poi vi metto il link in descrizione, così se qualcuno ha ancora cervello e può leggerlo da solo, se lo legge. Poi invece per tutti gli altri che magari sono un po', vogliono solo sentire l'audio senza che sta lì a legge, ci sarà anche il commento mio, diciamo, mentre leggiamo questa roba qua. Allora, se è autentico è terribile questo PDF di poche pagine, quindi meno di 100 pagine, che potete trovare anche ovunque, si può scaricare in inglese. E la cosa più vicina che ho trovato in italiano è questo sito qua. Però non ho cercato molto, quindi può darsi pure che ci sia in italiano. Allora, se è autentico è terribile, se è un falso è un incubo. In ogni caso è vero. Quindi, cioè uno può dire, insomma, che oh, mi sento i complottisti, tutte queste cose qua sono tutte cazzate. Ma il fatto è che, esatto, tu, questo possiamo vederlo come una mappa, no? Questo Iron Mountain. Tu hai in mano una mappa, no? E se la mappa corrisponde a quello che stai vedendo fuori dalla mappa, cioè nella realtà, no? Tu stai in montagna, per dire. Tu dici, ah, questa mappa è corretta. E se qualcuno vicino a te ti dice, oh, io dico questa mappa, ma che cazzo dici? Vedi che corrisponde la mappa che ho in mano con quello che abbiamo qua intorno, le montagne che vediamo? Ma che cazzo vuoi? Quindi, la gente può dirti quello che vuole, che ah, ma sono tutte cazzate queste, ma se poi ogni cosa che c'è scritto in questo libro qua, in questo scritto qua, corrisponde a quello che sta avvenendo, allora, il rapporto segreto da Iron Mountain è sconvolgente. Il documento auspica in un scenario apocalittico un controllo sociale con avanzate tecnologie e strumentazioni dei mass media per arrivare a pianificare una serie di spaventose minacce, tra le quali quelle di inquinare deliberatamente aria e acque, di riportare la schiavitù, di controllare con dei computer la processione e di reintrodurre nella società l'omicidio rituale. E poi parleremo anche di quest'altra notizia qua, ragazzi, vediamo se ci riesco, che oggi è appena passata questa cosa qua, che non me lo fanno a dire, c'è il suicidio, ora, vediamo, passa la legge sul suicidio assistito, l'ultimo baluardo resta il Senato. Insomma, piano piano lo Stato avrà il potere di farci. A parte che l'eutanasia già dal 2020 è in atto, però comunque se adesso è ufficiale, loro vedranno certe sezioni della popolazione che sono non produttive, inutili, e le faranno fuori. Per il momento passa solo così una legge che ti dice ah, sì, tu puoi decidere se far finire la vita. Però poi, ovviamente, sarà lo Stato a decidere chi vivrà e chi morrà. Il rapporto Iron Mountain è un testo pubblicato nel 67, il cui titolo completa Report from the Iron Mountain on the Possibility and Giustability of Peace. Il libro fu curato da un giornalista indipendente, Leonard Lewin, che scrisse la prefazione, dove è spiegato che il testo è un documento governativo ultra segreto, i cui presupposti risalgono alla presidenza Kennedy. Lewin ci informa che nel 65 fu formato un gruppo di studio speciale, da adesso lo chiameremo GSS, al quale l'esecutivo statunitese commissionò un'inchiesta sulla reale possibilità di una pace mondiale e sull'effettiva utilità di tale condizione. Il gruppo, composto da studiosi e riciclatori di alto livello accademico, dopo mesi di lavoro, consegnò al governo il rapporto che fu detto da Iron Mountain dal nome della località, un rifugio anti-atomico segreto presso New York, in cui si erano incontrati gli scienziati. No, gli scienziati. Le conclusioni cui il gruppo pervenne sono agghiaccianti per la stessa sopravvivenza delle forme statali. Quindi lo Stato, a parte che Mo lo spiega anche qua il documento, per la loro conservazione e rafforzamento cioè dello Stato, per l'economia mondiale, la pace non è desiderabile. Per lo Stato, cioè loro non vogliono la pace ragazzi, altrimenti finisce il loro potere. Ed è, al contrario, necessaria una situazione di conflitto costante in mancanza del quale è necessario ricorrere. Tu adesso ti dovresti incazzare con quei mostri che vedi in tv, con quei facce da cazzo che vedi in tv, che fanno tutti i preoccupati per gli ucraini. Questi sono gli stessi stronzi che mi hanno spostato a me che stavo per cazzi miei in Albania e mi hanno spostato qua. Capito? Non è stato, come è crollato il comunismo. L'hanno voluto sempre questi stronzi qua. Allora, non dico che in Albania durante il comunismo si stava così bene, era la stessa merda. Però, per dire, questa gente ci sposta come dei coglioni, ci fanno fare quello che vogliono e poi ufficialmente appaiono come preoccupati della situazione, come se questa situazione è venuta così dal caso, come qualcosa di calamità naturale. Ma è tutto programmato, ragazzi. E questo è scritto negli anni 60. Quindi, in mancanza di un conflitto costante, è necessario ricorrere ad una serie di surrogati della guerra. La guerra è la principale delle forme strutturanti della società. Essa rappresenta nella macchina dell'economia una specie di volano che, con la sua inerzia, controbilancia i progressi della produzione. Un po' di te non levano. Essa garantisce il potere politico, ogni potere politico, poiché l'autonomia di base di uno Stato sui cittadini risiede nel suo potere militare. Dunque, ragazzi, quando noi abbiamo accettato di creare dei mostri, degli eserciti così mostruosi, tu che cazzo puoi fare a quel punto? Quando ti hanno elevato la possibilità di andare qui, come sto io qua in montagna, vado qua nella montagna e prendo la cazzo di legna e ho energia, gratis. Però a te ti hanno spostato da queste montagne che fra poco saranno, infatti in questo documento te lo spiegano anche, tutti questi parchi, tutte queste cose con la scusa dell'ambientalismo, del proteggere la terra, loro ti toglieranno e ti mandano ad un tipo di energia che lo possono tirar fuori solo loro, ragazzi. Il gas richiede un'infrastruttura, una cosa enorme che solo uno Stato, c'è tante pecore organizzate e messe insieme, riescono a tirar fuori questa energia. e quando loro vogliono, come adesso con la Russia, te la chiudono questa energia e ti aumentano i prezzi. E' tutto collegato, pecorella. Dunque, che cosa fare? Come rispondere alle masse che istitivamente anelano alla pace? Il gruppo additò varie risoluzioni, ad esempio, si può imporre un'economia di guerra. Vi dice qualcosa questa? Economia di guerra? Questa è di oggi questa, ragazzi. vediamo di mettere giusto. Economia di guerra? Iniziano i razionamenti? Questo è di oggi, 11 marzo 2022. Questo documento è scritto negli anni 60, ragazzi. Rimettiamo il nero. Non so se a voi appare, perché io ho invertito i colori qua. Ma non ha altri fini. Un altro espediente è formidabile Aspetta. Un altro espediente è di formidabile attualità. Inventare nemici sostitutivi. Creare, cioè, un avversario che non esiste. Capito? Ma dal quale si dichiara di doversi difendere. Ad un certo punto questi qua già hanno iniziato. Prima abbiamo avuto il nemico invisibile che non si può manco di qua che stiamo su Chinatube. Adesso ci sarà un altro nemico invisibile che poi con questa guerra loro riescono a fare tanti piani insieme. Uno dei terrori che ti mettono in testa è la radioattività che non esiste. Pecorella. Però poi magari un altro video ne parlerò. Scrive il GSS le minacce con questi cazzo dei scienziati pagati da loro. Le minacce. Consideriamo, ragazzi, che questa roba qua questa gente è sempre stato in controllo dell'umanità. Però comunque sia. Le minacce fittizi dovrebbero non solo apparire vere. Ragazzi, uno dice ma perché fai questi video dove praticamente mi butti giù? Perché se sento queste cose qua che cazzo posso fare? Non abbiamo altra arma, ragazzi. L'unica arma è che i zombie che lavorano tutti i giorni che praticamente siamo 99% noi che lavorano per questi mostri capiscono che stiamo per finire se ogni giorno andiamo a lavorare per questi stronzi che ci stanno ammazzando a partire dalle mignotte che vanno lì in tv a dire queste bugie che ormai sono talmente plateali proprio. Ci sono i documenti e tutti che provano però io non ci metto solo le mignotte e i giornalisti ci metto tutti noi che tutti i giorni se tu prendi l'unico modo che il sistema ti dà soldi è se lavori per lui tu dici ma io faccio un lavoro innocuo non è innocuo serve a mandare avanti questa roba anche se fai lo spazzino stai contribuendo a questa merda tutti i lavori se tu vai a vedere stai contribuendo a questa merda quindi non diamo le colpe agli altri siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo dire ma che cazzo di lavoro sto fai io adesso e me devo fermare mi fermo uso la mia cazzo di coscienza perché altrimenti questo è un piano ragazzi che lo stiamo vedendo adesso in pratica queste non sono cazzate ragazzi perché la guerra se loro vogliono se vedono che noi non ci spaventiamo abbastanza ragazzi loro passano te cominciano a trattare veramente come uno schiavo alla fine e già hanno iniziato che già t'hanno messo in lockdown e t'hanno lasciato senza lavoro e tutto quanto cioè che cazzo volete di più che vi devono fare di più per capire che stiamo finendo ok io mi rendo conto che insomma molta gente un tono del genere non riesce a reggere però io sono fatto così che ci frega alla fine non c'è modo non è più tempo di addolcire la merda ragazzi lo stiamo vedendo con i nostri occhi ragazzi non so più che cosa ora le minacce fittizie dovrebbero non solo apparire vere ma essere credute tali con incontrollabile convinzione incrollabile convinzione ovviamente basta vedere i dementi che tutti parlano della Russia ah Putin Putin adesso gli hanno messo in destra Putin gli hanno levato il coglione a virus tale convincimento dovrebbe essere rafforzato dal sacrificio di esistenze umane di esistenze umane in numero non insignificante è evidente una spaventosa anticipazione con quanto accadde il giorno 11 che non si può dire credo e con gli attentati successivi poi a Londra eccetera migliaia di innocenti furono massacrati per creare la certezza che incombe la minaccia Goldstein credo Goldstein si riferisce al film al libro 1984 cioè questo cattivo cattivone nemico esterno alias Osama Obama Osama Bin Laden oltre a proporre la carta del terrorismo è di stata attribuito però a fantomatica organizzazione fondamentalista musulmana il documento individua altri due strumenti per diffondere paura ed angoscia tra le pecore la minaccia di un'invasione aliena questo ancora ci dobbiamo arrivare però insomma già con questo che stanno facendo adesso riescono quindi è l'inquinamento deliberato dell'ambiente quando vedete qualcuno vi dico l'inquinamento è voluto ragazzi quello che succede per esempio in campagna tutte queste la terra dei fuochi oppure i frigoriferi le discariche che vedi anche in natura io ho camminato in mezzo alla montagna e vedi la peggio schifezza è perché la vogliono loro ragazzi perché poi useranno questa cosa qua per dire guardate cosa avete cosa abbiamo combinato la terra e da adesso in poi siccome non sapete essere adulti vi comportate come dei bambini perché loro ti lasciano inquinare così poi ti dicono lo vedi che sei un bambino cioè questo è lo scopo loro ragazzi immaginati di essere una mamma che ha dei bambini piccoli e tu li vuoi controllare costantemente altrimenti se li lasci fuori liberi non sai dove stanno e quindi per controllarli tu cosa fai? gli fai fare tipo un gioco un qualcosa fai tipo una trappola gli fai tipo che ne so metti un qualcosa che si rompe però lo metti apposta così loro quando vanno fuori e rompono questa cosa qua tu gli dici lo vedi che hai fatto? da adesso e poi giocherai solo qui in casa quindi hai tolto libertà e te li tieni lì e li vedi senza problemi questa è la tecnica che loro usano con noi ragazzi farci insomma ci trattano come dei bambini ci fanno fare qualcosa per poi giustificare il fatto che la mamma ti deve tenere chiuso in casa perché altrimenti tu non ci saresti però se fai qualcosa di grave allora si c'è la scusa e accetti la punizione ok? la contaminazione degli ecosistemi con sostanze riusciate nel biosfera nell'ambito dell'operazione ad hoc è la punta di diamante del documento non solo perché causa inquietudine nelle persone ma anche poiché che esplica la diabolica volontà di distruggere il pianeta allora all'inquietante parallelismo che rivela molto di più di una semplice coincidenza alla fine del 67 la casa editrice pubblicò un libro che fece saltare soprattutto molta gente il libro si intitolava quindi risaliva addirittura al 61 all'interno dell'amministrazione Kennedy e dei suoi uomini nuovi McNamara Bundy Rusk solo nel 65 il progetto fu realizzato con formazione di un gruppo di mi sa che sta ripetendo un secondo in poco il governo statunitente chiese al GSS se fosse mai possibile la pace quindi qui c'è un pezzo che si ripete la conclusione a cui l'abbiamo vista questa un secondo allora qua la guerra non ha solo funzioni di controllo politico ed economico ma anche sociologico ecologico e culturale in una società da sempre fondata sulla violenza così concludono i scienziati la guerra come espressione forte istituzionalizzata e generale della violenza è l'anima stessa della società eliminando la guerra occorrerebbe ridisegnare tutta la società in un'inedita chiave di collaborazione tolleranza comprensione eticamente tutto ciò può essere affascinante ma non conviene al potere economico e statale perché corrisponderebbe alla fine di tali poteri dunque cosa fare come rispondere alle masse che istitivamente anelano la pace la guerra dichiarata che il popolo da sempre dice le stesse cose qua ad esempio si può imporre un'economia di guerra ok economia di guerra economia di guerra ma con altri fini ciò è accaduto con la corsa allo spazio delle due superpotenze negli anni 60 e 70 la gara per la luna non ha avuto alcun scopo pratico se non quella di imporre ai bilanci statali delle spese colossali la derivante competizione per gli armamenti nucleari ha fatto lo stesso miliardi di dollari sottratti alla edilizia pubblica l'istituzione della sanità fatti fluire verso le industrie belliche e cristallizzati in improduttivi arsenali che poi però hanno anche la cosa di renderti veramente impotente come quando vedi questi missili queste cose però avendo tu un nemico così perché si mettono d'accordo loro ragazzi l'occidente la russia si mettono d'accordo tu metti paura a me a noi che eravamo in comunismo ci mettevano paura con l'imperialismo il tutto giustificato con la pazzesca pretesa di garantire sicurezza alle nazioni ecco il più emblematico esempio di sostituto alla guerra un altro espediente oggi di paurosa attualità inventare nemici sostitivi creare cioè un nemico che non esiste realmente ma dal quale si dichiara di doversi difendere le minacce fittizie dovrebbero non solo apparire vere ma che cazzo qui non so perché si ripete certe volte questo artico sto leggendo dalla tragedia delle twin towers gli usano un nemico fittizio perfetto proprio come il rapporto descriveva ora il terrorismo è uno spauracchio ormai sono passati ed altro però comunque questo è un'arma che c'è sempre il bau bau il babau ma che il bau ah il babau forse una parola l'uomo nero di tutti gli stati della terra per combattere si giustivano tutte le azioni che prima sarebbero apparse almeno imbarazzanti i governi primo dei quali quello americano diffondono a cadenza quasi irregolare i comunicati che prevedono imminenti devastanti attacchi mai fortunatamente mai avuti fino ad ora giurano che il terrorismo è forte spietato e agguerrito ma non ci hanno mai fornito un nome a parte Bin Laden che è ormai un personaggio dal cinema mai mostrato una prova di un'altra disinitiva non ci hanno mai detto chiaro e tondo chi e perché nutre questo odio implacabile contro tutto il mondo però il problema ragazzi molta gente talmente bambina veramente nella testa altrimenti non ci tratterebbero come i bambini questa quella è una cosa triste però ecco tutta questa gente che che pensa ma io che cazzo dici io capisco questa cosa ma perché dovrei parlare e lo devi parlare devi parlare pecorella perché magari riusciamo a liberare il mondo non lo so può essere che arriva finalmente questo prossimo step evolutivo della coscienza dell'uomo che capisce che questo modo di vivere così dato a bambini è veramente finito insomma è tempo di cambiare di non essere trattati come degli schiavi ragazzi però se voi state lì impauriti lì avete paura anche di mettere il nome e cognome ora che possiamo farlo ancora e non ce lo lasceranno fare a lungo questo ragazzi allora siccome diciamo questa leggere questa roba non è youtube friendly mi sto rendendo conto adesso io se leggendo l'inizio di questo articolo qua vi ho stimolati a fare a leggere il resto o semmai trovare e magari me lo mettete nei commenti la versione in italiano del pdf io qua su telegram ho linkato adesso la versione la versione in inglese del pdf dove uno se lo può leggere però questo articolo qua è scritto bene io consiglierei di continuare con questo e poi se uno vuole leggere interamente il rapporto il documento ha modo di trovarlo a limite se uno veramente vuole capire che c'è scritto dal pdf copi il testo lo metti sul traduttore e te lo traduci insomma quindi se vuoi puoi ok chiudiamo qua e alla prossima ciao